Il Consiglio regionale si è riunito il 12 aprile per proseguire la discussione sul piano di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione 2012-2020. Nel corso della seduta sono state discusse le proposte di modifica presentate dalle opposizioni. Continua il confronto sul nuovo piano regionale dei rifiuti. Nella seduta del 12 aprile l'Assemblea regionale ha discusso 30 emendamenti del Movimento 5 Stelle di Forza Italia su diversi temi, tra cui il rischio per i lavoratori esposti a sostanze tossiche, l'innalzamento della percentuale di differenziate di riciclaggio al 2020, la riduzione progressiva dei rifiuti smaltibili in discarica e eventuali intese per l'utilizzo di impianti al fine di raggiungere l'autosufficienza regionale. L'esame del provvedimento prosegue nella prossima seduta. La lotta contro lo spreco alimentare, riassunta dall'hashtag Uniti contro gli sprechi, è stato il tema conduttore del terzo raduno regionale dei 47 consigli comunali dei ragazzi che si è tenuto a Novara. Suddivisi in gruppi, i giovani hanno partecipato ad attività formative e didattiche e hanno redatto un decalogo contro gli sperperi e per una sana alimentazione. Nel corso della giornata è stato approvato un documento con cui si chiede alle istituzioni pubbliche di promuovere un uso libero, creativo e responsabile della rete. Ha superato i 2 milioni di pagine con oltre 100 testate locali presenti, l'archivio digitale www.giornalidelpiemonte.it, progetto realizzato da Consiglio regionale e Regione Piemonte, che contiene quasi tutti i periodici locali pubblicati dal 1846 sino ad oggi, gratuitamente e liberamente su piattaforma online. Un archivio vivo che viene aggiornato ogni giorno, messo a disposizione di cittadini, ricercatori, insegnanti, studenti e giornalisti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!